Capita a tutti di tornare a casa dopo aver fatto delle fotografie e riguardandole di rimanere insoddisfatti, di pensare che avremmo potuto fare meglio, che avremmo potuto fare qualcosa in maniera diversa. Oggi andiamo a esaminare un portfolio di uno di voi che mi ha coraggiosamente inviato, andremo a vedere qual è la mia opinione su questa raccolta di foto, se si poteva fare meglio o invece se è stato fatto tutto il possibile. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni, da qualche tempo sto portando avanti questo format in cui critico le vostre foto, le vostre creazioni. Per sottopormi il vostro lavoro quello che dovete fare è semplicissimo. Create un link permanente dove caricate una decina, massimo una quindicina di foto, può essere Amazon Photos, può essere Google Photos, quello che volete, basta che mi mandiate un link che non scade, quindi non un WeTransfer, perché se no finisce che me lo perdo. Mi inviate il link in messaggio privato su Instagram e prima o poi, purtroppo siete tantissimi, quindi ci vorrà un sacco di tempo, già ve lo ho, ve lo anticipo, però prima o poi vi rispondo che sto lavorando al vostro video e di lì a poco lo vedrete uscire. Oh, prima che me ne dimentichi, vi invito anche a iscrivervi, perché qui critichiamo le vostre fotografie, oltre a darvi recensioni di strumentazione, foto, video e chi più ne ha più ne metta, per cui se vi iscrivete adesso non rischiate di perdervi le prossime puntate, è assolutamente gratis, basta un click e rimanete sempre aggiornati sul mondo della fotografia. Cominciamo a vedere la panoramica di questo portfolio e io vado a cliccare la prima immagine. Una cosa molto bella di Google Photos è che noi riusciamo a vedere i metadati della nostra immagine, quindi io vedo per esempio che questa è stata scattata con una EOS 600D, ed è stata scattata con un 50 mm, mi domando se sia il 50 mm o se fosse uno zoom zoomato a 50 mm, forse lo scopriremo più avanti. Una cosa però che posso vedere è che questa fotografia è abbastanza piccola, vedete la risoluzione, 800 di lato lungo, quindi è una fotografia abbastanza piccola. Questo secondo me già è un primo errorino, mi spiego meglio. Nel momento in cui scattiamo delle fotografie, secondo me è auspicabile scattarle alla risoluzione massima possibile della fotocamera. Non vi dico di scattare in RAW, perché in tanti video precedenti abbiamo detto si può scattare in JPEG, io stesso lo faccio, quindi non è quello il problema. Però questa immagine è stata caricata su Photos a una risoluzione ridotta. Questo è un errore perché? Perché la vedo piccola anch'io e vedendola piccola faccio più fatica a capire com'è la pasta dell'immagine, a capire com'è il dettaglio. Un'immagine così piccolina, vedete, io non posso zoomarla più di così perché questa è la risoluzione nativa, quindi la vedete piccola anche voi. Quindi questo secondo me è un errorino, nel senso che mandar le piccole, poi vediamo se sono tutte piccole o se è solo la prima, mandar le piccole significa che io che le devo guardare faccio più fatica, non le posso ingrandire e voi che guarderete il video le vedrete più piccole. Io le avrei mandate più grandi. Se sono state scattate così piccole l'errore è a monte, forse è stato fatto perché era finita la memoria, può essere per mille motivi, però in generale io quando consegno un lavoro preferisco vederle grandi. Nel caso specifico di questa immagine è abbastanza chiaro, siamo all'entrata del Museo Ferrari, io probabilmente l'avrei raddrizzata in post, perché scattando da sotto mi rendo conto che non è possibile avere le verticali delle finestre dritte, siamo da sotto, quindi non è possibile, però io in post l'avrei raddrizzata lo stesso. Per il resto l'esposizione mi sembra ok, forse c'è un po' di vignettatura introdotta in post, suppongo, che però ci sta, direi che ci può stare. Non ho granché da dire su questa immagine perché fondamentalmente va bene, io l'avrei solo raddrizzata. Andiamo con la seconda e ora, perdonatemi, io sono ignorante perché con tutti i musei Ferrari che possiede la mia famiglia non mi ricordo, non riesco a capire questo dove si trova. Mi domando se questa foto c'entra, quindi se il Museo Ferrari è in una località marittima, oppure se questa foto è stata messa dentro perché è reputata carina o se non c'entra niente. In ogni caso guardiamola. Località marittima, non ho informazioni per capire qual località marittima, però vi posso dire una cosa, che questa foto invece è stata scattata con una EOS 1200D, quindi abbiamo due macchine, vedo che anche qui abbiamo 0,5 megapixel, 886x591, quindi di nuovo mi domando, abbiamo impostato un JPEG scalato in macchina per quale motivo? Perché sapevamo che le avremmo messe direttamente su Instagram e badate ragazzi, ci sta, eh? Uno dice, io so che vado solamente su Instagram e non ha senso che faccio un RAW gigante e poi lo devo post-produrre, comprimere, farlo più piccolo e poi caricare. Sapevo qual era l'obiettivo della mia fotografia, le carico direttamente, le scatto direttamente piccole oppure quando le post-produco le esporto direttamente piccole. Diciamo che per poi doverle rivedere, questa di nuovo è un po' piccolina, quindi questo è un peccato. Per quanto riguarda l'esposizione, io direi che qui è perfetta, non abbiamo problemi di esposizione, mi domando se sia un HDR, probabilmente no, perché forse dalla direzione della luce forse si riusciva a prenderla con un singolo scatto. Mi manca qualcosa nel primo piano, cose che abbiamo già detto in video precedenti. Qui se ci fosse stato qualcosa in primissimo piano dove c'è tutta quell'acqua in basso, se ci fosse stato qualcosa, non lo so, un paletto del molo, qualcosa di caratteristico per portarmi più dentro l'immagine, l'avrei apprezzata di più, ecco. Questa qui risulta molto cartolina, può funzionare, però io avrei voluto qualcosa in primo piano che mi tirasse un po' dentro. Ah, ma qui siamo entrati nel Museo Ferrari. Allora, qui secondo me ci saranno poche cose da dire, ok, perché quando noi visitiamo un museo, capita anche a me, io ne visito tanti di musei, anche se non questo in particolare, quando visitiamo dei musei, l'esposizione è fatta in maniera tale da essere godibile e fruibile, quindi noi facciamo fatica a fare delle foto che siano completamente sbagliate, perché è un'esposizione, quindi fotografiamo quello che c'è lì, è già illuminato, è già messo in un certo modo, facciamo anche fatica però a fare delle foto perfette, perché comunque è un contesto dove non siamo soli, dove la luce è vero che c'è, ma non è perfetta, perché di solito sono spotlight che non sono tanto belli sui nostri soggetti, soprattutto se riflettenti come in questo caso. In questo caso, secondo me, ci sta, il motore è stato preso un po' di taglio e posso intuire il perché, magari c'era qualche elemento di disturbo da una parte che è stato rimosso, è stato scattato chiaramente in verticale, perché sennò probabilmente c'erano più elementi di disturbo. Io vedo gente dietro, personalmente a me non piace vedere gente dietro, io quando fotografo, e lo faccio e mi capita spesso, quando sono in vacanze fotografo contesti di questo tipo, quindi musei o cose del genere, mi capita di cercare di escludere il più possibile le persone. In questo caso, non vi dico che non ci stia, perché siamo in un museo, quindi questo può anche stare a rappresentare il fatto che sì, stiamo guardando un motore Ferrari all'interno di un museo Ferrari e c'è gente perché il museo è frequentato, quindi ci sta. Personalmente avrei cercato un momento in cui non c'era nessuno e avrei cercato di rifarla questa, però è una scelta mia personale perché per il resto ci sta. Mi sembra di vedere una post-produzione anche un po' invasiva, nel senso che mi sembra, mi sembra di vedere un po' di clarity, un po' di contrasto tirato fuori un po' prepotentemente. Il che ci sta, perché visto il contesto automotive, soprattutto Ferrari e corse, ci sta a dare un look un po' aggressivo alle immagini. Andiamo a vedere che cosa abbiamo dopo. Intanto qui stiamo sempre parlando della Canon EOS 1200D, quindi presumo che siamo andati al museo con due macchine e qui stiamo scattando di nuovo con il 50 mm. Mi domando se abbiamo due corpi macchina e un obiettivo che ci passiamo, oppure se abbiamo due corpi macchina con due 50 mm. Non ha neanche tutta questa importanza, sto solo sfrugugliando i metadati. Dunque, qui stesse considerazioni di prima sostanzialmente. Siamo in un museo, la macchina è quella, mi rendo conto che c'è veramente poco che possiamo fare. Queste luci che sembrano dei neon, che io vedo riflessi sulla carrozzeria e sulla lama anteriore, sono assolutamente inevitabili, perché io non posso nel museo Ferrari, cioè abbiate pazienza ragazzi, il museo è mio, quindi io potrei. Però voi non potete entrare nel mio museo con dei pannelli per pannellare la macchina e fotografarla bene. Quindi quei riflessi sono assolutamente inevitabili e va benissimo così. Il taglio della foto non mi convince appieno, nel senso che il bordo taglia proprio a pelo sulla lama anteriore e io lì gli avrei dato un po' di spazio in più, a costo di fare un passettino indietro. Le persone che ci sono lì dietro non mi piacciono assolutamente. Lì io mi rendo conto che magari era estate, però lì abbiamo delle persone con i pantaloncini a pinocchietto, abbiamo della gente che è evidente che era lì a visitare il museo, però io la percepisco proprio come disordine e non mi piace particolarmente. In generale, a me personalmente, io sto invecchiando, a me non piace vedere persone con i pantaloni corti in un contesto che potrebbe essere considerato non di vacanza, non di festa. Cioè qui non siamo in vacanza, siamo in un museo e a me vedere i pinocchietti dietro è una roba mia, mi infastidisce un po' perché abbiamo davanti una macchina che mi riporta a un contesto quasi corporate o comunque di lavoro. Vedere quella roba lì dietro mi disturba. È una cosa mia personale, però io lì avrei cercato e mi rendo conto che non so se era possibile. Magari il fotografo in questione ci ha provato e riprovato, ma c'era sempre gente, quindi mi rendo conto che non era possibile. È solo una mia considerazione. A me disturba vedere una cosa del genere dietro. avrei preferito non vedere nessuno, sarebbe stato l'ideale o comunque vedere un abbigliamento non dico formale perché mi rendo conto che è impossibile, però un po' meno informale. Ecco, andiamo avanti e questa mi piace di più. Abbiamo un contrasto marcatissimo perché qui abbiamo dei neri che sono nerissimi e una lama di luce bianca che arriva molto prepotentemente e anche qui poi l'autore magari ci darà qualche delucidazione nei commenti, anche qui a me sembra di vedere che c'è una post-produzione bella tosta che ci sta assolutamente soprattutto su un tipo di immagini come questa. Qui viene proprio fuori l'anima della scuderia quindi si vede che la fotografia era illuminata e per quello che posso vedere mi sembra anche esposta bene anche se di nuovo queste immagini sono esportate e caricate in un formato molto piccolo quindi faccio fatica a vedere bene la qualità perché non posso ingrandirla più di così, sgranerebbe perché è molto piccola e quindi ce la vediamo così. Questa in generale mi piace sia perché è completa è autoconclusiva e non abbiamo elementi di disturbo quindi mi piace di più questa. Finora questa qui è la mia preferita. Andiamo avanti, ne vediamo un'altra. Qui abbiamo di nuovo questo taglio verticale e non dico che non ci stia come sapete io non amo il formato verticale perché i nostri occhi sono disposti in orizzontale la nostra visione è orizzontale quindi vederla in verticale va bene per certi ritratti in questo caso non vi dico che non ci stia va bene però a me così sembra che stiamo prendendo parte della macchina tagliandone fuori un'ampia porzione cioè io l'avrei presa a metà per fare questa inquadratura sarei partito da metà e l'avrei presa dalla metà fino alla fine c'è un po' tanto spazio sul lato destro dell'automobile si sarebbe potuto girare un pelino l'inquadratura per prendere più macchina e meno nero dietro in questo caso la striscia rossa sul pavimento ci sta mi piace anche è una leading line che mi porta l'occhio comunque nel punto di riferimento che è l'automobile di nuovo ci sono delle persone dietro mi domando sempre se non si sarebbe riusciti a evitare queste persone scattando in un altro momento aspettando un po' io quando vado nei musei aspetto sto lì e aspetto che la gente se ne vada quando vedo una bella foto che mi piace aspetto anche 10 minuti per riuscire a portarmi a casa l'immagine magari è stato fatto e quindi non abbiamo nulla da rimproverarci di nuovo vedere gente dietro e comunque di nuovo coi pinocchietti a me non fa impazzire cioè bella macchina così io la vedo per me è un'automobile soprattutto una Ferrari cioè capirete è roba mia per me è un'opera d'arte e quindi vedere l'opera d'arte con dietro è come è come se mi faceste vedere la gioconda con dietro la gente che va in spiaggia è una roba che mi stona in qualche maniera mi stona ho una dissonanza cognitiva andiamo avanti e qui abbiamo la stessa identica cosa da dietro ora secondo me scattare fotografie di automobili è una cosa che ci agevola molto perché le automobili come detto sono opere d'arte sono opere di design di fatto quindi fotografare il design può essere molto facile perché ovunque ti giri becchi qualcosa di bello può anche essere molto difficile perché se non conosci bene il prodotto magari ne perdi un po' l'essenza io non conosco il grado di preparazione sulle automobili del nostro fotografo vi posso dire una cosa però personalmente in una foto come questa ci sta è una foto del posteriore dell'automobile in una foto come questa io avrei voluto vedere lo scarico io intravedo lo scarico in basso io vorrei vedere lo scarico perché lo scarico è una parte importante di una vettura mi sembra di intravedere l'estrattore con lo scarico lì in basso e io vorrei vedere che scarico è in questo caso avrei preferito un'inquadratura un pochino più bassa in cui si vedeva lo scarico e facendo un'inquadratura più bassa l'auto mi avrebbe anche coperto quelle due sagome quelle due persone che stanno dietro quindi in questo caso io l'avrei scattata proprio diversamente poi ovviamente questa è una questione di gusto però io avrei preferito vedere lo scarico e stando magari un pelo più indietro inquadrando anche un pelo di più della macchina magari si intravedeva non riesco a capire bene che modello è però mi sembra che sia un modello col motore posteriore e forse si intravedeva il motore attraverso il vetro perché alcune hanno il motore a vista non riesco a capire bene se è questo il caso però se si fosse visto scarico e parte del motore a vista secondo me sarebbe stata una bomba così funziona il colore è molto forte molto caratteristico domina l'estetica di questa immagine però secondo me manca qualcosa andiamo avanti e questa potrebbe essere insieme al dettaglio di prima che vi avevo detto che era la mia preferita questa potrebbe essere la seconda perché qui abbiamo bella vista della macchina da davanti illuminata così com'è quindi è esposta così illuminata così non ci possiamo fare niente quindi va bene così questa direi che è una di quelle che abbiamo visto che funziona di più non ci sono elementi di distrazione quantomeno poco percettibili io forse intravedo un piede sulla sinistra che avrei rimosso in post produzione gli avrei dato una pennellata per nasconderlo però questa insieme a quell'altra di cui avevamo già parlato questa è quella che funziona di più perché c'è la macchina senza elementi di distrazione bella simmetrica la vedi funziona questa qui mi piace abbastanza andiamo a qualcosa di un pochettino più tosto perché qui abbiamo la formula 1 questa ragazzi mi piace io suppongo che la macchina sia inclinata così perché sta su una pedana sono abbastanza sicuro che stiano su una pedana per dare l'idea dell'impennaggio della macchina questa è molto bella di nuovo c'è una post secondo me un po' aggressiva per tirare fuori dei contrasti e però ci sta tutta in questo caso qui ho solo una considerazione da fare oltre al di là del fatto che di nuovo se fossero state un po' più grandi sarebbero state più godibili per tutti perché vederla così piccolina a me sembra di vedere che il punto di messa a fuoco è sul frontale della macchina perché lo vedo bello nitido bello a fuoco però vedo a fuoco anche Museo Ferrari Maranello sul retro quindi visto che è stata scattata con un ah no ecco qui abbiamo cambiato qui siamo sul 18 mm infatti ecco il mio dubbio era questo perché scattando col 50 invece scattando col 18 mm siamo riusciti ad avere quasi tutto a fuoco quindi scelta assolutamente corretta scattiamo con un'ottica un po' più grandangolare così oltre ad abbracciare una porzione maggiore del nostro soggetto riusciamo anche ad avere una profondità di campo maggiore questo è assolutamente corretto forse e dico forse io avrei fatto un passettino indietro e allargato un po' di più per non segare gli scudetti della Ferrari in alto forse avrei provato a farne una un pelino più ampia per includere quei due scudetti all'interno dell'immagine ma forse per qualche motivo non era possibile per il resto devo dire secondo me è sposta bene perché ci sono dei contrasti molto forti però lo vedo che c'erano delle parti illuminate delle parti completamente in ombra quindi le parti illuminate sono esposte correttamente le parti in ombra sono giustamente in ombra non abbiamo paura delle ombre ragazzi se esistono le ombre nella realtà la macchina le percepirà e andrà a regalarci delle fotografie con dei contrasti forti ma è giusto così non dobbiamo sempre avere paura di gestire i contrasti in questo caso secondo me è stato fatto bene andiamo avanti e qui vediamo che abbiamo lo stesso soggetto con un taglio diverso e una post produzione diversa in questo caso allora intanto io vi dico quando presentiamo una raccolta di foto secondo me la post produzione deve essere uniforme perché io qui lo vedete proprio questa è stata trattata in maniera completamente diversa questa volendo c'è una posta ancora più aggressiva perché a me sembra di vedere una vignettatura che nel primo caso sì forse c'era ma meno prepotente qui a me sembra di vedere una vignettatura e un trattamento diverso sui colori proprio questo ci può stare perché se parliamo della singola foto sulla singola foto a me va bene però quando presentiamo una raccolta secondo me deve essere quanto più uniforme possibile quindi io avrei riservato a queste immagini esattamente lo stesso trattamento grosso modo è la stessa foto questo qui è un ritaglio più da vicino abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo fatto una seconda foto che poi è stata trattata in maniera diversa vi dirò che questa seconda come taglio mi piace anche di più mi piace di più perché ci sono meno elementi di distrazione dietro c'è più focus sulla macchina però preferisco il trattamento di questa prima immagine quindi questa qui mi piace il trattamento va bene però io le avrei riservato lo stesso trattamento della precedente per dare uniformità andiamo avanti e qui abbiamo un nuovo tentativo vedete vedete come sono molto diverse queste due perché abbiamo più o meno la stessa inquadratura e ah vi ho fatto uno spoiler di quello che arriva dopo abbiamo più o meno la stessa inquadratura però trattamento troppo troppo diverso e questa è quella che mi piace di più questa qui col trattamento che mi piace di meno però come inquadratura è quella che mi piace di più in questo caso allora qui abbiamo quella fettina di giallo sulla destra quella l'avrei fatta sparire e vi dirò di più l'avrei fatta sparire ma non in posta avrei composto diversamente questa è una cosa su cui dobbiamo fare un po' di attenzione quando scattiamo una fotografia occhio alla composizione qui il soggetto è chiaramente la Ferrari in primo piano quindi darle tutto quello spazio sulla destra è inutile tagliarle l'alettone anteriore è veramente un peccato io l'avrei tirata un po' giù e un po' a sinistra questa foto in maniera tale da prendere per intero la Ferrari che è il mio soggetto darle tutto quello spazio a destra e prendere addirittura quel pezzo di arancione che sarà un'altra cosa esposta è un errore secondo me perché la foto questa poteva essere la più bella di tutte poteva essere perfetta però la macchina l'abbiamo segata e in più abbiamo preso dentro un qualcosa che ci disturba perché fa parte di un qualcos'altro che però non capiamo che cos'è questa è un'occasione mancata la foto non è neanche male però è un'occasione mancata perché se era centrata giusta era la migliore di tutte andiamo avanti e bam questa è la migliore di tutte ma questa è la migliore di tutte per la macchina l'esposizione secondo me qui è perfetta va benissimo il trattamento dell'immagine è bello questo trattamento dell'immagine va bene su immagini come queste e sono curioso sarei curioso di vederle senza trattamento perché qui secondo me c'è una vignettatura e un contrasto molto sparato che aiuta molto secondo me senza questo trattamento si vedrebbe più l'atmosfera da museo e sarebbe quasi un peccato perché atmosfera da museo ok però così sembra più atmosfera da pista la rende molto più bella qui ragazzi onesto queste persone dietro mi danno un fastidio incredibile lo so che è un museo lo so che questa sarà stata magari il pezzo forte quindi era impossibile fotografarla da sola ma mi dà un fastidio vedere sta gente dietro cioè c'è gente in shorts in costume da bagno dietro a me dà un fastidio incredibile io queste e attenzione so che non era possibile scattarla diversamente questa però onesto io qui le avrei rimosse photoshop pennelli qualsiasi cosa ma le avrei rimosse e si riesce vedendo questa immagine così si riesce a rimuoverli in 5 minuti massimo li fai sparire tutti io qui li avrei fatti sparire tutti perché mi danno veramente un fastidio bestia mentre se fosse stata la macchina da sola con le persone cancellate questa sarebbe stata una cannonata pazzesca e può ancora esserlo perché si può ancora fare questa operazione andiamo avanti e questa qui mi piace c'è una cosa che mi disturba l'avrete già capito quella lama di luce su un lato io l'avrei di nuovo l'avrei composta in maniera da centrare meglio la mia automobile che mi pare di vedere abbiamo comunque quel lato inferiore che va a tagliare proprio vicinissimo all'alettone se non addirittura proprio sopra all'alettone questo è un peccato di nuovo secondo me dobbiamo lavorare di composizione qui la tiravamo un pochettino da una parte tagliavamo fuori l'elemento di distrazione e prendevamo la macchina per intero secondo me era meglio per il resto esposizione va bene sempre molto aggressiva con questo sfondo nero che ci sta l'immagine ci sta in sé diciamo che si poteva comporre meglio bene ma siamo arrivati alla fine quindi adesso possiamo riguardare tutto quanto lo shooting nel suo insieme facciamo qualche considerazione nell'insieme lo shooting ci sta al netto secondo me di qualche disattenzione quindi in questo caso il consiglio che io do è facciamo un po' più di attenzione quando stiamo facendo le cose proprio perché ripeto ci sono dei casi in cui mi rendo assolutamente conto che magari in nessun caso si poteva fare di meglio e magari è stato fatto tutto quello che era possibile fare ma secondo me non è così e vi dico perché ce ne sono alcune di cui abbiamo parlato che secondo me potevano essere perfette se solo avessimo tiltato di mezzo grado questa secondo me è una piccola disattenzione perché semplicemente guardando prendendoci un po' più di calma avendo meno fretta di scattare mi rendo conto che la fretta può essere dettata dal fatto che arriva gente però concentriamoci e cerchiamo di visualizzarla prima di scattarla e secondo me nessuno di noi la visualizza cioè il soggetto principale qui con un pezzo fuori e prendiamo tutta questa parte vuota secondo me nessuno la visualizza così il soggetto principale io me lo visualizzo centrato e non tagliato a meno che non sia un dettaglio ovviamente quella che mi era piaciuta molto con il dettaglio sulla fiancata dell'auto era solo un pezzo quindi ci sta tagliarne fuori delle parti però in una totale dove la macchina si vede per intero tagliare fuori un pezzo piccolo così che spunta fuori da uno dei bordi e poi avere 20% di spazio vuoto su un lato secondo me è un peccato questa è una questione di abitudine di previsualizzare prima di scattare è una stupidata dopo aver sentito questo appunto secondo me uno torna lì e le fa tutte perfette perché ha fatto caso a questa cosa quindi anche a questo devono servire queste mie critiche ad avere una previsualizzazione su una cosa che magari abbiamo fatto in un certo modo e potevamo fare in un altro modo che secondo me era migliore secondo me poi magari l'autore ci dirà no io le volevo esattamente così allora lì io non ho niente da dire io continuo a rimanere della mia idea e le avrei scattate componendo in maniera diversa per il resto l'esposizione è sempre giusta il trattamento delle foto secondo me ci sta tranne quella che abbiamo visto che è molto diversa che si discosta dalle altre non capisco il perché io le avrei trattate tutte nella stessa identica maniera forse era per dare varietà perché ce ne erano tre o quattro dello stesso soggetto quindi forse per dare varietà è stato fatto un trattamento diverso personalmente io lì piuttosto ne tolgo una piuttosto faccio una scelta e ne tolgo una però averne una trattata in maniera diversa io non lo farei altro appunto che mi sento di dover fare le fotografie sono in una risoluzione un po' bassina vanno bene per il web vanno bene per i social e forse erano state scattate per quello e forse erano state esportate e trattate per quello quindi probabilmente stiamo attingendo da uno shooting magari vecchio che era stato pensato per un altro obiettivo che non fosse quello di farle criticare da me e ci sta diciamo che in generale secondo me scattare a una risoluzione ridotta o esportare in una risoluzione ridotta ci può stare se conosciamo il nostro utilizzo finale in questo caso non è la scelta migliore sarebbe stato meglio averle non dico a risoluzione piena ma almeno almeno un 1920 di lato lungo questo lo dico per tutti in generale ovviamente questa non è una critica nello specifico sulle immagini però nel contesto di doverle criticare vederle piccole non agevola quindi magari sono stato ingiusto con alcune immagini perché le vedevo piccole magari vedendole grandi sarei stato più clemente su certi dettagli su cui magari sono stato un po' incisivo nel far valere le mie ragioni ecco detto questo signori io direi che ci fermiamo qui per questa critica perché abbiamo finito le immagini io vi invito come sempre a iscrivervi per non perdere le prossime puntate abbiamo già detto all'inizio del video come potete fare se volete partecipare io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video un po' del vostro tempo un po' del vostro tempo Grazie a tutti.